Importante riconoscimento di livello internazionale per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. L'istituto infatti è stato designato come laboratorio di riferimento da parte dell'Unione Europea per il controllo della malattia infettiva meglio conosciuta come Rift Valley Fever. La Rift Valley Fever o febbre della valle del Rift, segnalata per la prima volta nel 1931 nella grande vallata del Rift in Kenya, è un'importante zoonosi trasmessa da zanzare che colpisce alcuni animali come bufali, cammelli, bovini, capre e pecore ma può colpire anche l'uomo. Noi siamo molto orgogliosi della qualità della ricerca scientifica del nostro territorio. Pochi giorni fa presentammo un complesso di progetti di cui anche lo zooprofilattico era protagonista e partner e oggi questo nuovo riconoscimento internazionale. Da sottolineare che lo zooprofilattico di Teramo vince un bando internazionale, quindi si è confrontato con le più alte realtà della stessa tipologia presenti in Italia e in Europa e ha strappato questa brillante vittoria che consentirà per i prossimi anni di avere a Teramo un centro di ricerca, un centro di riferimento per questa malattia che colpisce gli animali, che è presente in Africa e che sta risalendo il continente africano fino ad essere ormai arrivato sulle coste tunisine, quindi sulle coste del Mediterraneo e noi grazie allo zooprofilattico di Teramo cercheremo di farci trovare pronti e di fare in modo di poter contrastare nella maniera più efficace possibile questa nuova malattia.